salve a tutti e benvenuti in un nuovo video in questo video vi porto a fortuna prima di cominciare il video vi dite di iscrivervi al canale e lasciate un like e adesso partiamo con il video e ragazzi nello scorso video di fort fortnite fortnite vi avevo fatto vedere il cubo il cubo dove voi potete fare gli scudi che ragazzi comunque sape forse avete notato per chi non ha notato del cubo è che quando voi voi vi fate sbattere nel nel cubo succede che vi riempie lo scudo di viventi quindi comunque ragazzi oggi io vi farò vedere le avevo sentito ragazzi eccovi come vi avevo detto c'è forse io non lo apro tanto io non è che lo non è che lo accendo sempre qualche volta sì qualche volta no fortnite io non l'accendo sempre ecco perché ragazzi c'è tante cose ragazzi sapete che ho sentito che tanto tempo fa è uscito i poteri i poteri poteri io direi o ragazzi io direi che scendiamo adesso no non alzate stiamo solo su ragazzi su 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 stiamo su non faremo non faremo il giugadiamo giugadiamo già la canzone non l'ho mai sentito ok ma l'ho sentito ragazzi dopo comunque rifiutiamo della canzone guardate c'è aspettiamo aspettiamo tra poco ragazzi si dovrebbe fare il coso dovrebbe accendere ecco credo adesso ma aspetta dove sono i cosi quelle nooo non non c'è più non c'è più o non mi sbaglio aspetta eh ragazzi da 7 che vedi ma dove no non dirmi l'hanno rimosso ma tua madre l'hanno rimossa problemi mentali ah no perché ragazzi quella cosa era un po' tipo ehm come si dice ehm era un po' tipo costoso ragazzi indovinate se noi vinciamo la partita volando solo così vogliamo così e vinciamo guardate c'è tutto così c'è vola ah noi sbagliate scusate c'è la partita ero vinto in modo a volare mentre sto volando ecco guardate c'è ah quindi ho capito il coso il come si dice quella ehm ehm aspetta aspettate non mi ricordo quindi il i poteri ecco scusate mi è venuto adesso in mente i poteri l'hanno rimosso che giornata no guarda uno no non c'è nessuno lì uh si che c'è fa la retromarcia guarda no prima che il ahahah forse quel pazzo ha pensato che io mi fermassi qui ma questa cosa non è successo non succederà mai e quindi dai che giornata io volevo provare quei quei poteri quei quei poteri aspetta uno è lì ma io devo prepararmi io devo essere preparato io qualcuno mi sta guardando non lo so chi ma mi sta guardando mi sta osservando e la persona che mi sta osservando lo dico che guarda io non ho nessuna arma questa due addirittura guarda c'è ah quindi ragazzi ho capito un po' di famoso se sono c'è dentro di me un po' di famoso ce l'ho ecco perchè le le scusate ecco perchè le persone sono venuti a guardare a me no non se ne andata dai c'è la nebbia se qualcuno pensa di spararmi può anche di verificare una cosa che l'ho detto anche nelle scorse video ma chi ascolta chi? eeeh guarda io eeeh c'è disfortuna un altro se n'è andato mi stavo osservando ma se n'è andato che sfortuna vediamo se vediamo se ah si che c'è il coso io io sto preparato così si dai un po' si dai raga un po' un po' preparato lo sono un po' preparato lo sono quindi intanto riempiamo il coso se no eeeh il camion eeeh prima che succede altre cose viene ah adesso è tre persone benissimo raga ti sapete che io eeeh quindi ho capito un po' di famoso che io ce l'ho ce l'ho quindi c'è un po' famoso io lo sono non ho capito adesso comunque ragazzi vi ricordo che se voi mi mandate la richiesta d'amicizia io vi accetto tranquillamente non c'è problema non è che qui eeeh succede qualcosa fatte così ragazzi se voi mi mandate la richiesta d'amicizia mi iscrivetevi nei commenti come vi chiamate boom e io vi accetto quindi non perchè ragazzi sapete che c'è di solito qualche volta mi invitano anche anche gli stranieri tipo gli inglesi tipo un altro tipo l'altro così ah questo cos'è no no io pensavo forse facessi qualcosa ma io adesso cambio eeeh il carburante con questo bene un po' fregatura no in realtà lo cambio ok no in realtà non si cosa se sta brucia cosa no aspetta un corvo eeeh epico oh corvo epico corvo epico se ne è andato maledizione corvo c'era qui il corvo il corvo corvo epico i corvi epici si questi sono sono i corvi epici epico ecco lo che è epico epico un altro qualche confusione raga l'ho fatto io parchiacciato te parchiacciano a caso c'era aiuta ho sentito ho sentito un rumore spaventoso ma possiamo creare ah si ragazzi capito il coso del del tenerlo premuto e ritornato ragazzi vi ricordate che tanto tempo fa lo avevamo usato lo avevo usato per fortuna sono dentro al safe lo avevamo usato ah ci sono i corvi i corvi ah va bene facciamo la scala che io devo controllare una cosa nulla a parte i munizioni io io mi rompo questi c'è perché ragazzi ah bene aspetta vediamo bene guardaci io questa cosa per ragazzi già sento già ragazzi io sto sentendo i rumori i i c'è il camion mi bloccava quindi eeeh rifiutiamo ce ne andiamo via da qui guarda sento ho già sentito e poi sto anche venendo io sto andando ragazzi se lo so no 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 bene pensavo forse che vuole far fare un pensa a parte questi lupi io ragazzi ho pensato forse vuole forse vuole fare un inseguimento in realtà i rumori dei lupi maledizione non ci fermiamo qui tanto il lupo va al tappeto vieni 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 dimmi che vai no come si permette l'avete visto tipo tu mandatene fuori ma tu cosa mi spari guarda lupo guarda lupo guarda lupo guarda lupo guarda lupo sotto c'è l'acqua via yahoo guarda lupo via lupo no si è che da qui guarda lupo fai fai bene fai bene fai bene andartene via fa bene raga fa bene perchè scusate non so se cosa mi è successo ma ragazzi vi dico che io sto bene non mi non sono malato cosa ragazzi lo andiamo a prendere subito ma c'è cosa voi dite una roba questo e io non la prendo non è successo mai un giorno che non ho preso queste cose bene un rampino datemi anche gli scudi sennò non posso vivere sennò ho paura che qualcuno ma vieni veloce cosa guarda qualcuno è già venuto giusto cosa guarda perché bene bene si è eliminato anche lui fortuna comunque se vi è piaciuto il video lo rilasciate anche se la tecnica e io vi saluto ci vediamo al prossimo video non so e ragazzi avete visto il video di Eplectiline ragazzi va bene non vi faccio nessun spoiler ok comunque e io vi saluto e ci vediamo il video, questo video abbiamo già guardato quando è uscito il coso comunque se vi è piaciuto il video lasciate la questione al canale, io vi saluto no scusate forse si faceva a vedere il video un video comunque io vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao